Dopo l'attacco a due moschee di Chris Church, in cui sono morte 50 persone, la Nuova Zelanda vuole modificare la legge sul possesso e l'acquisto di armi. L'ho annunciato la stessa premier, Jacinta Ardern, spiegando che i dettagli verranno forniti quanto prima. L'attuale legge prevede che l'età minima per possedere un'arma sia a 16 anni o 18 per le semi-automatiche di tipo militare. E secondo le ultime stime, in Nuova Zelanda ci sono un milione e mezzo di persone che hanno un'arma. I possessori di arma da fuoco devono avere una licenza, ma la maggior parte delle armi di proprietà di un singolo individuo non hanno l'obbligo della registrazione. Le semi-automatiche invece devono essere sempre registrate, ma secondo i critici della legge esistono diversi escamotage per evadere quest'obbligo. Coloro che fanno richiesta per il porto d'armi devono passare un esame, chi è in possesso della licenza può comunque acquistare tutte le armi che vuole. Intanto, Brenton Tarrant, l'uomo che ha aperto il fuoco nelle moschee e accusato di omicidio, si difenderà da solo in tribunale, come ha confermato il difensore d'ufficio Richard Peters. Tarrant, secondo Peters, è lucido e non è mentalmente instabile, nonostante il suo comportamento irrazionale. E non ha mostrato alcun rimorso. Il timore, anzi, è che la sua autodifesa possa servire a esprimere le sue idee in pubblico e a diffonderle. Il 28enne australiano, che ha diffuso un manifesto suprematista prima di filmarsi durante la strage, apparirà di fronte ai giudici il 5 aprile.